E ciao ragazzi sono Firebat e benvenuti con questo nuovissimo video di Brawl Stars Oggi siamo qui perché prima cosa non so perché il nome è in inglese E lo teniamo in inglese Però oggi per quanto io sto registrando per voi Osto è già passato due settimane Oggi andiamo a sciopare il Brawl Pass Che è uscito appena oggi Non vi preoccupate che dai la micro prenderemo a breve Non vi preoccupate Qui ragazzi intanto io ho fatto 30 cassettine Molto belle E per una cosa andiamo a fare la sette di potere E niente Andiamo Non so se cambiare il nome Cioè la lingua Però anzi andiamo Oggi footbrawl Ah comunque oggi col passato già la soglia 7 È il primo giorno per me Vabbè Oggi è Devo fare la sette di potere Brawl Ball Questa mappa Raga Io mi la gioco in tutto perduto Con Uuuu Perché tu non ho scritto di line Ma è così Me la flexavo instant Però vabbè Con Eeeel Il primo Andiamo subito A giocare perché Non vi ho l'ora di scioprire il pass Perché è da un botto di tempo Che lo sto aspettando Sì Sto per dire Ho fatto una bella ult Perché non ho spaccato niente Però Il franco Ci ha Attenzione perché Qua Iiii Ci avevo provato Ci avevo provato Ve lo dico Ci avevo provato Aiuto Aiuto Programmazione di video Perché non ho tempo Scusatemi Ma non ho tempo Di fare video Eeeh Ora usciranno Un video Ogni due giorni Cioè tipo Oggi lunedì Per esempio Martedì e mercoledì Niente video Dovedì Video Cioè non so se Avrò fatto i conti Ogni due giorni Video Allora Ok Ok Aiaiaia Ulti 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 Ok Ottimo Non sono neanche morto Perfetto Ok Aiaiaiaiaiaia Buono Tiro Molto bello Non è che Non mi sono messo in mezzo I miei compagni Vabbè In senza di potere Si trova gente decente Scopa Di ciò Di parole Non mi ha preso O Iu Serious bro Iu Serious Ebbè Sto franco Raga Sto facendo il macello Totale Grande Comunque dopo Sta partita Usalò ah peccato, 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 mi sta accadendo dopo questa partita raga userò, aiuto, derry, mamma, che combo che hanno fatto raga, che combo ulti di italia, se non c'era l'ultimo mi sa che l'avevo anche schivata l'ultimo di franco e vabbè, ora è impossibile ripararlo, perché ora aspetta che si rompe tutto con l'overtime e niente, usa l'ultimo, e niente, e niente, e niente, andiamo con il nostro carissimo e dove sta, derry, derry, con la schiena anche molto fitta, raga io non ho l'ora di prenderlo perché è molto molto ma molto ma molto carino, se che è bello in inglese, in italiano si dovrebbe chiamare facchino, se non l'hanno cambiato, se l'hanno cambiato, pazienza, si chiamano sempre d'anima, quello è poco ma sicuro, allora, allora, attenzione, guardate qua, guardate che, 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 che movimento di da bro, il fatto che io non sono, io sono bocciuto quindi, cotto, gran biscotto, basta, basta fare sterschosa, allora, attenzione, uh, uh, oh, 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 eh, ma non ho preso quasi nessuno, che un ragazzo se voi avete preso ci avete premuto le finale mondiale spero proprio per voi di sì perché in teoria ora quando sto registrando il video non l'hanno data ancora però in teoria per quando vedete voi video il video se avete premuto quel pop up vi dovrebbe arrivare perché è scoppiato no no aspetta che non ho capito perché scopiata ma 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 animen qua eminem lo so che non cantono però sto eminem qua in inglese vero comunque mi sa che c'è ancora quel bug ti cambia lingua da sola sì io penso che il bro il c'era il signore si chiama volevi si chiama beh eminem qua eminem team e tipo faceva parte di un team di anime ok non so cosa sto dicendo intanto guardate qua i movimenti da pro da prosciutto ok scrivata la ultima il fatto che ora ci va andando a segnare perché io sono andato appunto e niente andiamo con la seconda con la terza partita non so se l'avete notato ma della schermata di caricamento c'è aspettate ora vedete oh vabbè quando siamo in matchmaking ora c'è la schermata di gelinto dietro mi sta più arrabbiato c'è che tirava valigie a tutte le parti grazie ecce ok 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 io scappo io scappo e vabbè quel cavolo che mi fai segnare aiuto sto qua mi ha mancato non è bene ovviamente ragazzi scherzavo secondo voi stavo dicendo la verità figuratevi figuratevi non dico mai la verità così ok no che ti usi che ti usi questa ultima che si fa attenzione attenzione leone è diventato invisibile lo sapevo che era lì attention please attention please non so che ora è la ultima hai la star che ti cura mannaggia no sono ritornato indietro non è sbaglio mannaggia attenzione io stavo andando da tutta la parte ma ci stanno segnando ci hanno segnato ci hanno segnato volevo dire ci stanno ci hanno va bene ok che ti apposta ti apposta che ti apposta ti apposta ok 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 oh 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 pelle 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 velo pelle pelle velo pelle play ag ag b vabbè Se ti faccio fare il gol Adesso lo facevo Non lo so Qualcosa Vabbè Stacchito La pallita La palla Quella di giocare Questo è falso Mi scoppiava Mi faceva scoppiare Vabbè Ho 13 di vita Ho un omicida Sono un piccolo terrile Aia Sto 1 o 2 mi è piaciuto Non è andato a un bombino Che è sciotto No raga mi ha fermato Mannaggia 3 secondi non c'è tempo Peccato raga peccato 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 Ora raga andiamo a prendere Il Pass Ho già ricateglato Di gemme E niente In inglese Anzi raga Lo faremo in italiano Perché voglio vedere Se hanno Cambiato di nuovo Il nome facchino Ma penso proprio di nuovo Che è rimasto facchino Allora Ora andiamo 3 2 1 Ovviamente prendiamo Quello normale 3 2 1 Via 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 Roll pass Bloccato E poi ragazzi E niente Spero che il video vi sia piaciuto Ci vediamo In un prossimo episodio Ciao Ciao